Questo attiva l'altro, con questo vi dico niente, non deve sentire niente qua, niente qua, e la mia faccia niente. Vedete, qualcosa che ho potuto fare, dovete riuscire a fare con il corpo una cosa e con l'altro il nulla. Se questo agisce su tutto, non c'è il chiotai, c'è combinazione, perché non è questo il trucco, il trucco è che questa è una cosa e questa è una cosa staccata a terra dal niente. Altro chiotai, no? Di conseguenza, basato sui quattro cancelli, sono tutti chiotai. Dov'è l'attenzione? Non ho visto i caricamenti, ho portato l'attenzione a tutte cose che si continuano. E tutto, l'altro è tutto, ma non perché se io faccio, reagisce su tutto. Allora, pazzi tu, no? Ha mosso la spalla, ha chiuso, no? Niente, solo acqua. Esatto, capito? E io guardo se vedo la partenza. Così meglio, no? Cioè, non vedo, no? Questo è anche nascosto sotto, quindi va bene, buono, vedi, deve essere proprio, così si vede. E tutto, però io sto, lo lascio fare, perché se no non capisce. No, dai, su.